Il mio rapporto con la tradizione è un rapporto importante. Prima cosa perché viviamo in uno stato, l'Italia, dove abbiamo avuto i più grandi artisti a livello mondiale e poi nell'ambito bergamasco abbiamo avuto dei grandissimi pittori. Mi sento un pittore tradizionale perché faccio uso ancora del colore a olio, faccio uso ancora del disegno, nonostante io viaggi tra la figurazione e l'astrazione, mi sento comunque un pittore tradizionale che ama la sua storia, una storia quella di Bergamo che è importantissima.